Quando è che ha scoperto di avere questo potere? Da quando la guido. La mia percezione è come amplificata. Vedo cose che prima mi sfuggivano. In più affronto ogni sfida con un controllo che non credevo di avere. È strano. Quando scendo dall'auto, tutto torna normale. Nuova Subaru Outback con sistema Insight e trazione simmetrica low-wheel drive di serie. Ora vedere è potere. Scoprila negli showroom Subaru. Scoprila negli showroom Subaru.